Ciao a tutti, oggi vi spiegherò come utilizzare Zoom, che è un applicativo per creare videoconferenze. Andando sul browser basta scrivere Zoom su Google e al primo posto troverete la pagina a cui arrivare, il sito web di Zoom, altrimenti scrivete zoom.us nella barra degli indirizzi, nella barra sopra. Cliccato sul sito, accettate come sempre i cookies e qui vedete che c'è il menu e la possibilità di iscriversi gratuitamente. Quindi Sign Up is free, potete andare sopra, questo se dovete realizzare voi la conferenza, quindi se dovete essere voi a tenerla. E qua vi farà scegliere se utilizzare il vostro account Google, Facebook oppure semplicemente la vostra mail. Inserendo quindi la mail, poi premete su Sign Up e lui dirà che avrà inviato un'email per verificare appunto che siete voi. Quindi confermate, andate a visualizzare le mail e qui troverete appunto la conferma dell'account. Qua basta premere su Attiva Account e qui ok, mi ha fatto entrare con Firefox. E confermate, cioè confermate il nome e il cognome e inserite la password. Che va poi confermata ovviamente. Continua. E poi appunto potete saltare questo passo, invitare i colleghi a saltare il passo. Facciamo salta. No, inizio subito, oppure iniziate subito, andiamo all'account. Ovviamente tutto questo passaggio di password, nome e cognome, lo potete saltare nel momento in cui utilizzate Google o Facebook come account. Questo è il mio account. Posso andare su Osta Meeting con video, senza video o solo appunto condividendolo lo schermo. Con video. Qui sta aspettando di scaricare. Quindi quando voi entrate in questa schermata qua, lui vi farà scaricare l'applicativo di Zoom che pesa pochissimo, pesa 10 megabyte. Ecco qua, si sarà impallato. Comunque cliccando qui vedete che appare la finestrella in alto. Poi a seconda del browser, magari appare in basso o qui direttamente. Salva file. Salva file nel download. E qua l'ha già scaricato, è molto leggero. Cliccate sopra, cliccate sul programmino e lui parte a installare il programma di Zoom. Zoom esiste anche come applicazione per Android o iOS, quindi potete installarla sul vostro smartphone o sul tablet e quindi fare tutto questo da là. Una volta che vi siete registrati, potete utilizzare appunto la videocamera del telefono o del tablet per realizzare la videoconferenza. Installato. Vedete che fa tutto lui, non c'è neanche bisogno di fare chissà che sequenza. E qua dice che, sì vabbè, mi chiede l'audio, la conferma, quali di codi, prende l'automaticamente. Join, ok. Io non ho una webcam, quindi non mi fa vedere in questo momento quello che c'è nella webcam, però in realtà se voi avete una webcam me la fa vedere. Questa è la mia schermata. Nel momento in cui dovete far arrivare qualcun altro, quindi far entrare dei partecipanti nella conferenza, tutto quello che vi serve è qua sopra, dove c'è questo punto esclamativo. Qua vedete il meeting id, che è questa sequenza di numeri, non serve il trattino quando lo dettate, e la password. Queste sono le due cose che servono ai partecipanti, dovete comunicarli a entrambi, sequenza, il meeting id e la password. E poi c'è l'url, insomma l'indirizzo, anche questo, potete girare direttamente questo come invito, però queste due vi servono da mandare. Fatto questo, avete la possibilità quindi poi di chattare con i partecipanti, inoltre a parlare, mandare dei file presi dal computer, o un drop box Google Drive, eccetera, a tutti, oppure a una persona sola della chat. Se non dovesse funzionare il microfono o il video, controllate sempre che appunto stia prendendo la fonte giusta, quindi qua in caso la webcam, e qui in caso il microfono giusto, e poi anche appunto gestite l'altoparlante, quindi a secco che sia la cuffia o quello che è. Quindi controllate sempre qua. Qua è per mutare, invitare un partecipante, se volete saltare questo passo, e gestire, quindi vedere chi c'è all'interno per poi silenziarli, oppure togliere il silenziamento, togliere il microfono, togliere la videocamera, eccetera. E condividere lo schermo, quindi far vedere una schermata di uno dei programmi che avete aperto. E registrare poi la conversazione. Reactions, questa è la, vabbè, batterle mani, thumbs up, e poi in realtà il partecipante della conferenza ha anche la possibilità di alzare la manina. Una volta che avete finito, fate end meeting. Ricordatevi che ogni conversazione dura 40 minuti nel piano free, quindi senza pagare avete al massimo 40 minuti, però una volta che avete terminato i 40 minuti potete ricreare un nuovo meeting e quindi reinvitare le persone. Quindi potete poi proseguire la lezione o quello che è, insomma, la conferenza in altri 40 minuti. Per il momento è tutto, per creare la conferenza basta questo.